Una vistosa voragine si è aperta all'incrocio tra via Tratturo e via Topanisco nella prima mattinata di oggi nelle periferie della città. A segnalare il caso sono stati gli automobilisti preoccupati per il possibile cedimento del manto stradale e per la sicurezza sulla strada, visti gli altri eventi balzati alle cronache recentemente. Si tratta di un punto nevralgico per la viabilità cittadina, teatro e in passato anche gli incidenti. Sono tempi duri per gli automobilisti sul Monesi che devono fare conti con buche e dissesti sulla strada. La scorsa settimana una voragine si aprì nel piazzale di San Francesco prontamente riparata dalla Saca, un'altra lungo via Rufina dove si è sfiorata la tragedia per un imprenditore del posto, anche quest'ultima è stata riparata.